Sì, la pazienza di aspettare è importante per rispondere, è determinante, è determinante, vedi, più non ci casca mai, è importante, vedi, oh, siamo pronti ragazzi, via, andiamo per la volta che è un velo, è giusto, è un velo, è a breve, è un velo, è Sì. 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 Spesso. Si. γ Sì. Giù. Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti